Appuntamento con l'informazione locale di prima mattina alle 7, buongiorno con la rassegna stampa occhio ai giornali, il commento alla stampa del giorno che come sempre si può vedere, ascoltare in diretta alle 7 del mattino da lunedì al sabato sul canale 17 di Fanotv in tutta la regione Marche sul digitale terrestre e poi anche sulla pagina Facebook sempre in diretta e poi on demand su Youtube e occhioanotizia.it Cominciamo come sempre con il santo del giorno, vediamo con il cartello i santi Giuseppe Darimatea e Nicodemo che raccolsero il corpo di Gesù sotto la croce, lo avvolsero nella sindone e la deposero nel sepolcro. Oggi dovrebbe essere anche la Beata Vergine Maria Regina. Il sole sorto alle 6.19 tramonterà alle 20.04 e adesso andiamo a vedere il tempo. Le previsioni le guardiamo oggi dal sito della protezione civile delle Marche che per la giornata odierna prevede cielo sereno un po' crumoloso con temperature stazionare in lieve aumento, stessa cosa domenica, cielo sereno ovunque, mentre il peggioramento come si nota dalla grafica arriva lunedì, l'inizio della prossima settimana avremo rovescio temporali sparsi a partire da nord nella tarda mattinata, poi in estensione sul resto della regione nel corso del pomeriggio. Ci sono anche venti tesi lungo la costa fino a raffiche di vento forte. Insomma, questo è il panorama dall'inizio della prossima settimana. Tra l'altro la tendenza dei prossimi giorni, come scrive sempre il sito della protezione civile, sarà instabile e c'è questa persistenza di una saccatura estesa dalla penisola scandinava fino al nord Italia. Poi il miglioramento arriverà nella giornata di mercoledì con poca instabilità residua nelle zone interne. Poi anche giovedì ritorno dell'anticiclone, quindi dovrebbe essere tempo buono da giovedì in poi. Comunque un po' di pioggia, come vedremo tra poco, servirà. Speriamo che non faccia disastri. Intanto noi andiamo a collegarci con la spiaggia Animalido di Fano, dove vedo in ottima compagnia il nostro Giovanni Dallago. Buongiorno Giovanni. Presentaci subito le tue ospiti. Sì, oggi ci sono venute a trovare due ragazze che hanno un'importante iniziativa legata alla plastica. Allora, raccontacela. Due minuti di tempo. Via. Vai. Vado. Ciao, mi chiamo Laura, sono la referente regionale di Plastic Free. e volevo anticipare che il 26 settembre ci sarà la data nazionale dell'associazione con più di 300 appuntamenti in tutta Italia e ovviamente parteciperemo anche noi a Fano, quindi ovviamente siete sempre tutti invitati a partecipare alle nostre raccolte di sensibilizzazione. E questo nell'arco della giornata del 6 settembre, mi pare, no? Del 26 settembre, sì. Poi sul gruppo Facebook Plastic Free Market verranno dati tutti i dettagli con l'orario preciso e il ritrovo. Quindi poi questa era una piccola anticipazione, visto che oggi in sub abbiamo fatto un giretto e anche nel mare, insomma, a Gallia c'è un sacco di plastica, quindi non solo nella spiaggia, ma... Ecco, voi raccoglierete... ...per qualche seguito l'occasione per annunciare questa cosa. Ecco, voi raccoglierete la plastica anche a bordo di questi... com'è che si chiamano? Sup? Sì, si chiamano sup e ci sono... e sono molto divertenti da utilizzare in mare. Allora, facciamo vedere subito come si va in sub, dai. Facciamo vedere come si va? Vai, una di voi, uno di voi. Occhie tutte e due, via. Va bene, puoi seduti, no? Si può andare seduti, si parte. Poi una volta che ci si allontana... A metà, no? A metà. E dopo in piedi raggiamo. Ah, quindi bisogna avere anche un bel equilibrio, perché se no... Ok, e poi si va. Allora, voi intanto ci avete mandato, giustamente, Giovanni, anche la foto di gruppo. Andiamo a vedere subito, la facciamo vedere perché oggi chiudiamo il collegamento con voi. Quindi tu vedi chi c'è nella foto, perché l'hai scattata. Ce li vuoi presentare? Giovanni, tu sei sulla sinistra. Poi? Sì, c'è il nostro staff e partendo da sinistra c'è l'Alice, Luca, l'Arianna, l'Elena e Manuel. Ecco, questo è il gruppo di Animalido. Bene, grazie. Allora, Giovanni, siamo in chiusura. Grazie per questa settimana trascorsa insieme. Adesso vai a recuperare i tuoi ospiti che sono in mezzo al mare. Buon fine stagione, insomma, buona fine estate. Va bene, grazie di tutto. Arrivederci al prossimo anno. Grazie, grazie a tutti. Arrivederci. Allora, adesso andiamo subito a vedere i giornali. Cominciamo dal Corriere Adriatico. La questione della scuola, soprattutto perché per il secondo anno consecutivo il problema è quello dei trasporti. Trasporti che non sono sufficienti per accompagnare a scuola tutti gli studenti. Intanto a settembre si viaggerà all'80%, Adria Bus si doterà di nuovi mezzi, altri 20 nell'arco del 2022. Il report solo a Pesaro sono oltre 3.200 gli studenti che esufruiscono del trasporto pubblico. A centropagine invece, come dicevamo, vedete la terra che ha sete, gli agricoltori sono disperati, frutte e ortaggi a rischio. Poi in arrivo Speranza, il ministro, rischio contestazioni stretta sulla sicurezza. Vedremo come, quando e perché verrà a Pesaro. Da fano la cronaca, coltellate in casa, la discussione finisce nel sangue. Bambino trovato a vagare la sera da solo in strada è successo a Marotta. Poi di spalla qui la storia che leggeremo tra poco. La passionaria preside Novax non controllo proprio niente, dice lei, annunciandolo in un gruppo privato, in un gruppo chiuso dedicato ai presidi di tutta Italia. Intanto l'università in presenza, ma ci vorrà il certificato, e Villa Marina a Pesaro, parche promosso e restyling a fine stagione. Il Carlino di Pesaro a centropagine, a vaccini, fronte mare, questa è la fotonotizia, camper itinerante a Marotta, tutte le prossime tappe a caccia degli indecisi. Festa del PD, Speranza e Green Pass. Apre lunedì il ministro della Salute, ma per accedere sia ai dibattiti che ai ristoranti serve la carta verde. Gommone sbatte contro le onde, donna subisce un trauma alla spina, subito soccorsa in spiaggia, nelle acque davanti al gabice mare. Poi troppo rumore, un panettiere ferisce a coltellate i suoi conviventi. E il Carnevale d'estate, carri allegorici in Sassonia. Lo sport qui sotto, Coppa Italia, big match, oggi c'è Vis Modena, basket, tifosi agli allenamenti, la VL apre dunque le porte. Allora, cominciamo dalla cronaca di Fano, con questa lite tra inquilini, coltellata e tentato omicidio, arrestato, mezzogiorno di paura e sangue, ieri in un condominio del Parco delle Rose, in manette un trentenne senegalese che ha ferito con una lama, due connazionali. Poi la richiesta del gruppo Pesca di Fano al Comune, intervenire subito sul vecchio porto, non possiamo più attendere. Questa è la pagina di Fano, mentre dalla Val Metauro, coltellate in casa un arresto, la discussione tra nordafricane finita ieri mattina nel sangue, dentro un residence del Poderino, l'aggressore è accusato di tentato omicidio, l'allarme è stato dato da due feriti che sono poi fuggiti in strada. L'indimenticato medico, parliamo del dottor Carlo Amodio, indimenticato medico e primario di radiologia all'ospedale Santa Croce. Amodio se n'è andato a 71 anni all'aprile del 2020, nel pieno della prima e gravissima ondata pandemica che travolse soprattutto il Pesarese. Oggi si terrà alla presenza dei suoi familiari la messa in suffraggio alle 18.30 nella Basilica di San Paterniano a Fano. Vediamo se c'è un'altra notizia qua sotto. No, andiamo sull'altra pagina. Val Cesano trovato in strada un bimbo di tre anni, il piccolo figlio di Pakistani residente in zona, era uscito da solo, si trovava vicino alla farmacia chiusa. L'allarme è stato dato da una coppia del posto che passando in auto lo ha visto di sera lungo la strada pergolese. Intanto invece, sempre sulla pagina della Val Cesano del Corriere, Giuliano ed Alessandro, sono Giuliano Fiorelli e Alessandro Cipolla, due giovani mondolfesi, che sono stati ricevuti in prefettura a Pesaro l'altro giorno per una emozionante cerimonia dedicata tutta a loro. In onore di questi voti che hanno preso al termine degli studi superiori una cerimonia promossa dall'amministrazione comunale e condotta dal prefetto Tommaso Ricciardi, che ha accolto con entusiasmo l'invito del sindaco Nicola Barbieri. Sono due ragazzi autistici e quindi sono stati premiati per aver ottenuto il massimo dei voti. Ancora la cronaca, dalla pagina 9 del resto del Carlino. Il gommone sbalza sulle onde, grave una donna per il contraccolpo, una turista di 51 anni sviene mentre è in barca con la famiglia. Gli uomini di Nemo, in suo soccorso, intervengono sulla riva e quindi la portano in salvo. Poi c'è questa fotografia che invece è stata postata sui social, anche perché il proprietario, stanco di essere vittima di questi assalti notturni al distributore automatico, ha deciso di passare all'agonia mediatica. E l'agonia mediatica è questa, la pubblicazione di questo fotogramma. Ovviamente poi per ragioni anche di giustizia gli sono stati coperti gli occhi, ma insomma parliamo di un ennesimo furto che è venuto l'altro giorno in Via Rossi a Pesero. Questa volta il proprietario ha pubblicato questo fotogramma che immortala il malvivente. Ieri è andato in questura a portare il video e a fare denuncia. Ormai dice faccio così ed ha quasi sempre funzionato. Quindi pubblica la foto dei ladri su Facebook perché ho subito tanti furti e tanti soprattutto danni. Adesso andiamo invece sull'altra pagina, pagina 15 del resto del Carlino. Gli rompe il naso e poi scappa, siamo sempre a Marotta, ancora violenza sul lungomare Colombo. Ferito un 31enne di Senigallia. I carabinieri indagano per identificare l'uomo che ha picchiato la vittima. È un nuovo episodio di violenza, il terzo in pochi giorni, che ha spezzato la tranquillità di Marotta. L'altra sera intorno alle 23.30 si parla di questo litigio. Poi, sempre dalla stessa pagina, però da San Lorenzo in campo, baby vandali al parco. La denuncia del sindaco dell'Onti, siete recidivi. Che cosa fanno questi baby vandali? Spaccano tutto. Irrigatori dei giardini pubblici, divelti, mascherine areatrici delle scuole strappate dal muro. Poi, piante e fiori danneggiate e sradicati, tubazioni in alluminio nuovissime dell'antincendio, schiacciate e prese a calci. Insomma, chi ne ha più ne mette. Questo è un po' il divertimento di questi baby vandali, che evidentemente si annoiano diversamente. Poi, dall'alba al tramonto, invece, è tempo di carnevale, anche se siamo fuori stagione, ma comunque il carnevale di Fano andrà in scena in questi ultimi due fine settimana di agosto. Dall'alba al tramonto, ecco il carnevale estivo, questa è la pagina del Carlino, parte oggi estatico, nel segno di Dante Alighieri e della musica da vita. I carri allegorici saranno sistemati in Sassonia già dalle prime ore di questa mattina. Alle 20 si inaugura stasera la Kermesse, per chi vuole partecipare, all'Anfiteatro Rastat, con i versi del sommo poeta. Mentre il Corriere Adriatico, estivo ed estatico, ma è carnevale, questo è il titolo, sempre sulla pagina di Fano, stasera alle 20 l'inaugurazione all'Anfiteatro Rastat, sui versi di Dante, a cui è dedicata questa edizione. Eventi oggi e domani a Sassonia in tre zone, i carri fermi sul lungomare, dove sfileranno i buloni. Il bulone, lo diciamo per chi magari non lo sapesse, che ci segue magari da un turista, che per la prima volta viene dalle nostre parti, il bulone, la maschera caratteristica del Carnevale di Fano. Alla tenso struttura si esibiranno altri artisti, campioni del mondo di body painting, insomma ci sarà un po' di roba, un po' di cose da vedere. Intanto il Corriere Adriatico oggi segnala anche un libro, un libro che è interessante, lo sto leggendo, ce l'ha inviato l'autore Rodolfo Colarezzi. C'è tutta la città del nuovo libro, in questo nuovo libro di Rodolfo Colarezzi, persone vive, persone che non ci sono più, persone note, altre un po' meno note, ugualmente però rappresentative. Poi ci sono i luoghi, i luoghi ifanesi, ci sono gli eventi, i ricordi, il presente. Insomma, questo libro nuovo di Colarezzi, che è stato in qualche modo, che penso sia stato regalato, perché non credo che sia in vendita da qualche parte, ma è un bel libro. Lui ne ha scritti tanti, è autore già di 20 libri di narrativa, insomma, innamorato, perso della nostra città di Fano, quindi davvero un piacere leggere Colarezzi, perché si vede, si capisce che scrive con il cuore, con il cuore in mano. E ricorda anche tanti personaggi, tra questi anche Carlo Amodio, che abbiamo citato poco fa nella Rassegna Stampa. Poi, la pagina di Fano del Corriere Adriatico, riaprono le porte della Travebis, una nuova palestra per la città, attività al via da settembre, ma da lunedì entrerà la Virtus, serve il Green Pass, chiesti tamponi gratis. Bungaro, che invece è il cantautore sindaco tra i bambini, spettacolo coinvolgente al Paese dei Balocchi, dopo l'investitura ufficiale. E poi le piogge, a pagina 11 del Corriere, si parla delle piogge ridotte di un terzo, quindi la grande sete che hanno i campi, che fa soffrire frutta e verdura. Il Codma, Fano, ha il termometro della situazione. Per quanto riguarda il settore ortofrutta, regge meglio il comparto vitivinicolo e il grano sarà di alta qualità. Secondo l'Agenzia dei Servizi al settore agroalimentare delle Marche, le precipitazioni in questi ultimi otto mesi sono state meno di un terzo delle piogge che cadono normalmente. Per la Col di Retti, sulla base dei dati Assam, nel Pesarese da giugno alla prima decada di agosto, il cao è stato evidente, soprattutto sul litorale. La costa meno 88%, l'entroterra meno 15%. E sul fronte delle previsioni, come abbiamo visto, lunedì arriverà la pioggia, però avremo, come dice anche il meteorologo della protezione civile, Marco Lazzari, un altro fine settimana con il sole, poi la perturbazione, tra parentesi in forze, ma comunque lunedì l'area più fresca porterà anche temporali, l'anticiclone africano è alle spalle, il riscaldamento globale però alza le temperature. Arriva il Ministro Speranza a Pesaro e sarà stretta sulla sicurezza, il Ministro più discusso del momento, Roberto Speranza, sarà a Pesaro lunedì prossimo, 23 agosto, responsabile del Dicastero della Salute aprirà la festa dell'unità di Pesaro da Piazzale Collenuccio alle 21.30, intervistato da Gerardo Greco, sarà una sorta di anteprima, poi la festa entrerà nel vivo dal 25. Si temono però delle contestazioni. Intanto da Urbino, obbligo Green Pass in Ateneo, adottate le misure di Governo e Ministero contro la diffusione del Covid-19 e per la ripresa in presenza. Lettera del Rettore a personale studenti, certificato da settembre al 31 dicembre, verifiche a campione. Ma attenzione, qui andiamo a pagina 28. E allora, a pagina 28 c'è la storia, o meglio, c'è questa notizia che riguarda una preside, una dirigente di un istituto, che è l'Istituto Corridoni Campana di Osimo. Lei è la professoressa Milena Brandoni, che tra l'altro, come scrive Lorenzo Sconocchini questa mattina, ha un curriculum davvero di alto profilo, tra le tante cose brillano anche esperienze di insegnamento degli italiani in Egitto, Messico, ma insomma, una professoressa davvero con un alto profilo, con un curriculum di tutto rispetto, ma che in un gruppo, in un gruppo chiuso di Facebook, lo ricordiamo, un gruppo chiuso di Facebook, perché sapete che c'è una circolare che vieta i presidi di rilasciare dichiarazioni non autorizzate, per cui il Corriere Adriatico è entrato, ha avuto la possibilità di vedere questi screenshot, queste frasi che la professoressa, la presida, ha scritto in questo gruppo chiuso, quindi solo per dirigenti, professori di tutta Italia, non per giornalisti o ficcanaso. Ebbene, cosa scrive la professoressa? Scrive queste cose qua. Allora, per esempio, io non controllerò proprio nessuno, sono io stessa senza Green Pass e non lo avrò nemmeno a settembre. E poi dice disobbedienza civile. La terapia sperimentale anti-Covid viene iniettata alla persona che deve essere libera di decidere cosa fare del proprio corpo. E ancora, stiamo facendo rete, ci stiamo organizzando, non siamo allineati e insieme saremo più forti per rispondere al regime. Chi non si vaccina non mette in pericolo proprio nessuno. E allora, andiamo a leggere un po' meglio, visto che abbiamo un po' di tempo. Allora, la professoressa Brandoni innanzitutto sventola la bandiera della libertà. Libertà di scelta. È quella che diciamo noi a squarcia gola e quello che sostengo anch'io ma evidentemente non riesco a spiegarmi bene. Ma comunque, libertà di scelta, questo è il motivo per cui urliamo contro questa dittatura. Libertà di scelta. Libertà di scelta. Libertà di scelta. Chi non si vaccina, dice la professoressa, non mette in pericolo proprio nessuno. Chi vuole proteggersi si vaccina e quindi è salvo. Perché si preoccupa dei non vaccinati? Infatti, tutti quelli che mi insultano dopo la rassegna stampa perché pensano che io sia Novavax, perché vi preoccupate tanto di me? Ieri c'era uno che addirittura mi ha augurato la morte, mi ha augurato di prendere il Covid, mi ha augurato di tutto e di più. Perché ti preoccupi tanto di me? Domanda. Perché vi preoccupate tanto dei non vaccinati? Se chi si vaccina non prende il virus, se chi si vaccina non prende il virus, allora non deve temere i non vaccinati. Se chi si vaccina può prendere il virus, allora questo è inutile. Se chi si vaccina può prendere il virus, allora questo è inutile. Dice la professoressa, la preside, e poi dice ancora vabbè, ci stiamo organizzando, ci sono in questo gruppo ovviamente anche presidi che non se la sentono di fare i controllori, di fare gli sceriffi, eccetera, eccetera. Poi invece, sempre dal resto del Carlino, c'è un comitato che trova spazio sulla pagina di Ancona, pagina 7, ci battiamo per i diritti, ci battiamo per i diritti, firme contro il Green Pass, eccolo qua. si è costituito il comitato Io Sono, formato da docenti, medici e avvocati, alle palombare sfila il mondo della scuola per dire no alle imposizioni. Paragonare i tempi odierni alla dittatura nazifascista, domanda il collega giornalista, lei, questa persona risponde, c'è un unico punto che avvicina le due epoche, quindi l'epoca nazifascista con quest'epoca che stiamo vivendo, l'informazione mirata all'ipnosi collettiva. Eccola qua. Un'altra chiave di lettura che può essere interessante, l'informazione mirata all'ipnosi collettiva. Ecco, tra le tante persone che guardano ormai la televisione dalla mattina alla sera e non hanno più il coraggio di cambiare canale appena vedono e sentono parlare di Covid, c'è questo problema. Molta gente è ipnotizzata, è come se fosse ipnotizzata, ormai è indottrinata in un certo modo e non ha più nemmeno la possibilità e la capacità di ragionare. Ormai è così, non c'è o sei così oppure sei contro. Ecco, questo è un problema serio che non si risolverà poi alla fine della pandemia. Ma ancora, dicono questi del Comitato, chiediamo le dimissioni del Governo tecnico di Draghi del Comitato tecnico scientifico che si ascolti il premio Nobel Montagné che molti di voi probabilmente di quelli che insultano non hanno, non sanno nemmeno chi sia e si sentano le voci di tutti senza silenziare chi la pensa diversamente. E poi, e poi dice ancora noi non siamo Novax ma questa non è una vaccinazione reale. di Covid si muore perché non viene curato in modo giusto, in modo corretto. E sul Green Pass dice il Green Pass non scongiura il contagio, è una contraddizione infatti che serva nei bar e non serva per esempio sugli autobus. Appuntamento poi anche oggi alle 17.30 in Piazza Cavura d'Ancona per una sfilata pacifica e lo ricordiamo serve lo ricordiamo che contro il Green Pass in tutta Italia ci sono delle manifestazioni alle ore 18 in moltissime piazze italiane di cui poi le televisioni nazionali non parlano mai ma se avete i canali giusti e vedete per esempio su Telegram ci sono anche dei canali ad hoc potete vedere quante migliaia e migliaia e migliaia di persone sfilano per dire no appunto a questa tesserina verde sono verdi e puzzano ma non sono i Green Pass sono le alghe che vanno rimosse da Senigallia proteste dei cittadini per il forte odore provocato dai grossi cumuli nella spiaggia sul lungomare di Ponente le alghe raccolte sulla spiaggia di Velluto accantonate in un tratto di spiaggia libera puzzano e vanno dunque rimosse esplode la polemica sul gruppo di Facebook se di Senigallia sì poi il lupo che abbiamo fatto vedere ieri durante la rassegna stampa dopo la spiaggia sbrano una pecora un lupo che attacca una pecora al fiume Cesano giovedì la notizia appunto che abbiamo dato anche ieri che aveva raggiunto la spiaggia minacciando i bagnanti tra cui i naturisti che da sempre frequentano il tratto di arenile a due passi dalla foce l'animale è stato visto passeggiare in direzione mare poi ha sbranato una pecora però ecco da quello che so leggendo insomma difficilmente i lupi attaccano l'uomo quindi insomma i bagnanti al di là dello spavento dovrebbero essere abbastanza tranquilli sdraiato sulle scale della chiesa è stato cacciato è un uomo che ha scambiato l'esterno della cattedrale per un chalet balneare arrivano i vigili e viene allontanato vedete l'immagine di questo uomo sdraiato davanti al sagrato della chiesa tra turisti e passanti sbigottiti per l'accaduto che hanno avvertito la polizia municipale nella pagina 14 invece del Corriere Adriatico nuove imprese come traino e segnali positivi dell'export Sabatini e Pierpaoli della CGA dice dal Pesarese un trend che dà fiducia poi la scomparsa a proposito di CNA di Rino Galli che è stato tra i padri fondatori della Confederazione Nazionale degli artigiani e i funerali saranno nella chiesa di San Gaudenzio di Montefabri oggi alle 15 e poi i dettagli di questo accordo che pubblica il Corriere Adriatico questa mattina un accordo quinquennale con la holding saudita per la squadra VR46 di Valentino Rossi il titolo è già dice tutto vale principesco in arrivo 18 milioni di euro all'anno sono i dettagli dorati che sono immersi da questa conferenza che hanno fatto che ha fatto il responsabile di questa operazione della famiglia reale il finanziamento per il team sarà di 18 milioni di dollari a stagione per 5 anni e già la prossima settimana dicono procederemo con il pagamento la firma è attesa per la giornata di mercoledì e con questo noi ci fermiamo qua grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata un buon fine settimana appuntamento con la rassegna stampa lunedì mattina alle 7 arrivederci grazie a tutti